benvenuti benvenuti a questa puntata di stampa evangelo la prima con il lock down in tutta italia ma voi sapete che in famiglia ad inolfi siamo in auto isolamento da un po di giorni quindi stiamo giocando oggi il gioco è truccarsi e fare la segretaria abbiamo la segretaria di edizione di stampa evangelo perché dobbiamo giocare il meccanismo adesso signori è il più possibile tenere una condizione in questo lock down che abbiamo auspicato una condizione di allegria perché non possiamo sicuramente abbatterci e allora abbiamo deciso che oggi si gioca alla segretaria di edizione giusto quindi con preparazione del dello sguardo del trucco del parrucco e abbiamo fatto anche il parrucco abbiamo fatto si chiama trucco e parrucco questo in televisione quindi ci siamo preparati a a fare questo insomma a giocare un po perché se si gioca si esce vivi da questa situazione anche moralmente oggi c'è cristiana di stefano eccola qua cristiana è una disabile una disabile grave che oggi firma l'editoriale del quotidiano la croce siamo a stampa evangelo oggi vi sottolineo la necessità di leggere la croce perché vedrete la nostra analisi di ciò che sta accadendo abbiamo parlato di un paese fuori controllo salutiamo jacopo pioli che ci scrive dalla cina jacopo pioli che ci ha dato l'esperienza di quello che sta accadendo perché ha fatto l'esperienza cinese ed è attualmente in cina in lockdown da due mesi con cinque bambini ricordiamoci così capiamo la difficoltà che invece noi dobbiamo affrontare da oggi anche se noi ci siamo imposti l'auto isolamento da qualche giorno e so la fatica per esperienza che vuol dire tenere i bambini in lockdown bisogna giocare divertirsi ma ripeto oggi leggere anche il quotidiano la croce il quotidiano del popolo della famiglia ricordiamoci che domani è il nostro quarto compleanno come popolo della famiglia l'undici marzo del 2016 abbiamo fatto l'assemblea nazionale fondativa del palazzetto delle carte geografiche quindi oggi siamo alla vigilia del nostro compleanno e allora leggiamo in particolare l'editoriale di cristiana di stefano perché è l'editoriale di una disabile grave che non ha familiari a supporto e allora io vedo dappertutto comparire l'hashtag io resto a casa che non mi piace perché è un hashtag che comincia con io e dunque gli hashtag egotici in questo momento non sono adatti noi restiamo a casa abbiamo detto che era necessario farlo lo diciamo dal 21 febbraio che è necessario farlo finalmente hanno capito che quello che diceva il popolo della famiglia era quello che era necessario fare avevamo ragione noi e però come dice cristiana di stefano nell'editoriale di oggi sul colinano la croce attenzione nessuno si è lasciato solo pensiamo ai disabili gravi pensiamo agli anziani senza supporto familiare mi hanno mandato proprio adesso una applicazione del principio che abbiamo enunciato fatto dal comune di grandate che ha dato un numero di telefono per dare assistenza ai disabili gravi senza supporto familiare e agli anziani senza supporto familiare non siamo a io resto a casa siamo a aiutiamoci l'un l'altro e stiamo a nessuno resti solo cristiana ci ringrazia vedi che clara sei l'unico a parlare dei veri problemi io ringrazio invece cristiana perché scrivendo l'editoriale di oggi sul colinano la croce ha squarciato il velo su una questione fondamentale ieri abbiamo visto il paese sfuggire di mano abbiamo visto parlare delle necessità dei carcerati perché hanno fatto la rivolta sette morti 27 carceri messi in condizione di difficoltà con le rivolte carcerarie 50 evasioni dei carcerati che non siamo riusciti a riprendere però nessuno ha pensato a quella condizione di reclusione reale che è quella dei disabili gravi e degli anziani quindi come ora ci stiamo ponendo giustamente il bisogno degli dei dei detenuti che sono 60 mila in tutta italia ricordiamolo ricordiamoci anche delle centinaia di migliaia centinaia di migliaia di persone disabili e persone anziane che non avendo supporto familiare rischiano davvero di finire in una difficile condizione di solitudine quindi massimo supporto e leggete oggi l'editoriale di cristiana di stefano sul quotidiano la croce perché questa esigenza come popolo della famiglia evidentemente la porteremo avanti così come abbiamo portato avanti l'esigenza del lockdown dal 21 febbraio quando invece nicola zingaretti diceva bisognava andarsi a farsi gli aperitivi il sindaco sala diceva con l'hashtag milano non si ferma e il ministro della salute speranza diceva che il coronavirus non era affatto facile contrarlo per contagio bene quando le istituzioni dicevano questo il popolo della famiglia diceva fate quello che oggi sono stati costretti a fare il lockdown generalizzata di tutta italia vieni clara che bisogna leggere il vangelo di oggi tocca a te in questo momento è allora leggero io il vangelo leggo il vangelo secondo matteo il vangelo secondo matteo di oggi tanto chiedo a silvia se vede clara che cosa ha fatto silvia vedi un po clara è andata di là è arrivata anche la 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 spesa vi diamo il live di famiglia di nolfi abbiamo fatto la spesa con la app si può fare la spesa con la app questo vale anche per molti disabili e molti anziani se volete avete necessità ecco in questo momento è arrivato il gazzone con la spesa che sta portando la spesa in sul pianerottolo è una modalità con cui si può agire tramite la tecnologia per avere comunque il supporto silvia lodà mi chiede quale app non voglio fare pubblicità io uso la app della s lunga che è molto efficiente mi porta l'acqua tutti i generi anche pesante fino al quinto piano e con un contributo minimo riesco dunque ad approvvigionarmi senza dover uscire di casa poiché lo ripeto io ho fatto l'auto isolamento della famiglia ormai da tre giorni l'app dell'esse lunga mi funziona molto bene ho usato anche ho tentato di usare altre app che invece hanno dato risultati molto meno efficienti diciamo così dicevo siamo a stampa evangelo l'invito sulla stampa è leggere in particolare oggi il quotidiano la croce capire perché un paese intero è andato fuori controllo con la borsa meno 11 per cento le rivolte carcerarie i picchi di contagio e capire che la soluzione è quella che abbiamo indicato noi il 21 febbraio non il 10 marzo il 21 febbraio che era quella del lockdown generalizzato del paese lo abbiamo potuto fare anche perché aiuta di sempre nella valutazione nella gestione del di ciò che accade dalla lettura della parola la parola è logos logos vuol dire anche logica pregare riflettere leggere il vangelo posso dirvi che sono tre elementi di certezza perché tre elementi di certezza perché sono cose che non fanno male ecco questa già in questo tempo in cui c'è bisogno di certezze ho visto gente il ridere anche su twitter il fatto delle nostre preghiere ecco in questo tempo in questo tempo ricordatevi che avere delle certezze è un elemento importante pregare leggere il vangelo riflettere sono elementi che non fanno male non fanno male ciò che non fa male oggi è ciò che fa bene e riflettiamo su questo anche come cattolici dunque senza vivere un elemento di assolente di ritiro in noi stessi o di disperazione ma proiettandoci nell'aiuto verso l'altro per esempio in quello che abbiamo fatto adesso cioè proiettarci in una dimensione del nessuno resti solo del nessuno resti solo partendo dagli anziani senza supporto familiare dai disabili senza supporto familiare mettendo in questa proiezione che c'è verso l'altro la nostra socialità capacità di essere nei social in una dimensione di reale socialità Jacopo Pioli dalla Cina sottolinea anche mi fa molto piacere avere davvero uno che sta facendo esperienza di lockdown da due mesi come Jacopo Pioli dice giustamente importante che questa quaresima possa essere vissuta così Monica Sismondini dice mi hanno insultata perché ho invitato alla preghiera e Monica però questo lo sai sei una cristiana e sul Vangelo come me hai letto non è non c'è scritto sul Vangelo vi applaudiranno e vi diranno quanto siete bravi c'è scritto sul Vangelo hanno perseguitato me perseguiteranno voi dunque noi nella lettura della parola siamo sempre conseguenti la parola è logos il logos è logica ci presta la logica Gesù Cristo per comprendere ciò che accade cioè anche gli insulti che ti hanno caratterizzato quando hai invitato alla preghiera quello che possiamo dire certamente è che la preghiera è la condizione del bello perché razionale chi prega non fa male non c'è del male contro nessuno nel momento in cui si prega e questo è già un elemento evidentemente positivo così la lettura del Vangelo di oggi che è il Vangelo secondo Matteo in quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo sulla cattedra dei Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei praticate e osservate ciò che vi dicono ma non agite secondo le loro opere perché essi dicono e non fanno legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare li pongono sulle spalle della gente ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente allargano i loro filatteri e allungano le frange si compiacciano dei posti d'onore nei banchetti dei primi seggi nelle sinagoge dei saluti nelle piazze come anche di essere chiamati rabbi dalla gente ma voi non fatevi chiamare rabbi perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli e non chiamate padre nessuno di voi sulla terra perché uno solo è il padre vostro quello celeste e non fatevi chiamare guide perché uno solo è la vostra guida è il cristo chi tra voi è più grande sarà vostro servo chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato questa è la parola del signore di oggi non dimentichiamola non dimentichiamola perché in questo contesto è determinante comprendere che siamo qui per servire e che siamo tutti fratelli e i fratelli che hanno più bisogno in questo momento devono essere a maggior ragione serviti da noi serviti in questo frangente così complesso talmente complesso in cui vogliono trasformarci in monadi ma noi monadi non saremo mai noi l'abbiamo detto oggi dopo che dal 21 di febbraio chiedevamo il lockdown del paese che il primo pensiero va rivolto a chi in questo momento non ce la fa il quotidiano la croce ha voluto oggi avere come editoriale quello di un disabile grave come cristiana di stefano priva di supporto familiare perché questi sono i nostri fratelli gli ultimi i grisabili gravi senza supporto familiare gli anziani senza supporto familiare e dunque tutti i comuni e le politiche pubbliche vanno concentrate immaginando la presenza di centinaia di migliaia di fratelli con queste caratteristiche dunque concentriamoci su questo elemento e chiediamo a ogni comune dove viviamo di preparare politiche che sappiano costruire una risposta a questa emergenza poi dal punto di vista complessivo andiamo ad analizzare quello che è stato dal 21 di febbraio noi chiedevamo quello che adesso si sta realizzando il lockdown del paese avevamo capito dai dati epidemiologici dai dati dall'insegnamento che ci arrivava dalla cina che l'unica maniera per contrastare questo maledetto virus era costruire questo lockdown è stato fatto il lockdown con tre settimane di ritardo tre settimane di ritardo che sono costate centinaia di morti e decine di migliaia di contagiati perché ricordatevi che i contagiati non solo sono i 9172 conteggiati ma anche e probabilmente decine di migliaia di contagiati non sintomatici asintomatici che quindi non abbiamo trattato col tampone detto questo comunque almeno siamo arrivati al traguardo siamo arrivati lo ripeto dopo decine di giorni in cui abbiamo sentito segretari di partito dire bisognava andare a fare gli aperitivi con 100 persone abbiamo sentito i ministri della salute dire che il coronavirus era difficile da contrarre non è affatto facile il contagio spot lanciati sulla rai presso tutta la popolazione li abbiamo denunciati li ha denunciati il popolo della famiglia c'erano sindaci di grandi città che facevano gli hashtag milano non si ferma e adesso siamo tutti nella posizione di aver compreso quello che il popolo della famiglia aveva compreso il 21 di febbraio e che ha provato a ripetere giorno dopo giorno con voce sempre più ferma ma purtroppo sovrastato dal rumore delle opinioni altalenanti di governanti non all'altezza ora la risposta che dobbiamo dare è evidentemente una risposta di popolo una risposta in cui io lo ripeto non mi piace l'hashtag io resto a casa mi piace l'idea noi non siamo soli noi insieme ce la faremo noi insieme resistiamo al male e resistiamo al male noi cristiani noi cattolici anche pregando anche leggendo la parola di cristo anche vivendo questo tempo di quaresima in questa maniera straordinaria che riceviamo come un dono sì come un dono perché ci permette di riflettere di ragionare attorno a tutti i nostri limiti a tutto il superfluo che ci circonda di ragionare rispetto all'essenza delle cose che contano che grazie a dio sono ora rivelate con grande nettezza e ripeto lo ripeterò finché posso stando accanto agli ultimi a chi in questo momento non ce la fa il mio appello è agli 8100 comuni d'italia gli 8100 comuni d'italia per favore facciano lo screening di chi è in questo momento nella condizione di essere disabile grave privo di supporto familiare anziano che resta solo analogamente privo di supporto e agiscano le politiche pubbliche per far sì che queste persone che purtroppo sono centinaia di migliaia non restino sole siano immediatamente supportate perché io so cosa significa l'esperienza ho parlato con cristiana ma che la nostra editorialista di oggi sulla croce ma con tanti disabili gravi e tanti anziani in questo periodo so cosa significa stare legati su una sedia a rotelle non poter neanche andare in bagno non poter neanche essere supportati cercando del cibo se se ne ha bisogno quando si viene lasciati completamente isolati la paura l'angoscia l'elemento terrificante della solitudine non tocchi gli ultimi dei nostri fratelli perché questo è il momento proprio questo il momento in cui noi dobbiamo secondo tutti e secondo giustizia e logica cercare di chiuderci in casa dobbiamo far sì che questa chiusura in casa non sia un elemento di problema serio riguardante il il nostro essere in condizione di isolamento non dobbiamo avere un isolamento mentale in questo momento dobbiamo cercare di essere davvero affratellati mai come in questo momento è necessario dobbiamo rispondere dobbiamo rispondere con forza al paese con una capacità seria di dire quel che adesso bisogna fare lo facciamo da popolo della famiglia lo facciamo da comunità con 220 mila persone che ci danno fiducia che sono quelli che hanno votato popolo della famiglia il 4 di marzo del 2018 lo facciamo dicendo quello che abbiamo già detto in precedenza sapendo quello che stavamo dicendo visto che oggi oggi i provvedimenti sono quelli che noi proponevamo il 21 febbraio del 2020 allora bisogna ora concentrarsi su quel che bisogna fare e in particolare da ora in poi bisogna mantenere evidentemente una capacità una lucidità io vi dico che qualcuno ha scritto scusate questa distrazione che ho perché qualcuno ha scritto qualche commento sbagliato durante la diretta e mia figlia adesso sta piangendo vieni amore perché qualcuno ha scritto qualcosa che non ti piaceva amore stanno scritto qualcosa che non andava allora chi ha fatto piangere mia figlia in questo momento che veniva qui a cercare di giocare con voi e che adesso sta piangendo perché qualcuno cretino ha fatto qualche commento cretino durante la diretta adesso io ve lo andrò a cercare perché dopo mi faccio lo screening di tutti i vostri commenti di tutto quello che avete scritto in diretta e vi vengo a cercare direttamente e avrete la risposta personale a chi ha fatto piangere mia figlia con un commento in diretta durante stampa evangelo segnatevelo perché va bene tutto ma con una bambina di 9 anni non bisogna in alcun modo prendersela adesso andate di là per favore che vada avanti con la diretta chi ripeto ha scritto qualcosa di sbagliato durante la diretta adesso lo vado a prendere lo vado a prendere perché veramente bisogna cercare di limitare la dimensione della stupidità perché qualcuno evidentemente è stato stupido ora il tentativo che voglio dire oggi è che quello che abbiamo vissuto è stato un momento di paese fuori controllo l'Italia è andato fuori controllo oggi abbiamo titolato sulla croce che l'Italia è un paese fuori controllo perché è un paese che va con 27 carceri in rivolta con le super maxi evasioni dal carcere di Foggia con 50 persone che evadono col carcere di Modena con 7 persone che muoiono 7 carcerati che muoiono con la borsa a meno 11,1% con 10.000 contagiati e 500 morti con la sanità che non regge più evidentemente un paese fuori controllo il paese fuori controllo è stato riportato di corsa a buoi ampiamente usciti dalle stalle dentro la dimensione di qualche logica e la dimensione di logica è stata appunto il lockdown complessivo che è il lockdown che il popolo e la famiglia chiedeva dal 21 febbraio ora affinché non si ritorni in una dimensione di paese fuori controllo e completamente illogico bisogna far sì che questo tipo di concordia che oggi sembra avvolgere immediatamente tutti venga prorogato nel tempo questo elemento di concordia dunque la marcia tutti insieme ripeto tutti insieme non io resto a casa il hashtag è gotico ma tutti insieme marciamo per uscire da questa emergenza diventi un comportamento collettivo come si fa a diventare comportamento collettivo in una dimensione in cui tutti dobbiamo stare chiusi dentro casa l'elemento del gioco fa sì che per esempio in una dimensione familiare si viva una condizione di difficoltà nella maniera più difficile possibile nella maniera più semplice possibile è il vecchio gioco della vita è bella qui stavamo nella tragedia assoluta dei campi di concentramento e un papà nei confronti dei figli cerca di far vivere persino quella tragedia come gioco quindi la dimensione del gioco è una dimensione fondamentale perché qui abbiamo adesso più di 10 milioni di bambini dentro casa e per queste persone per i bambini per la loro tranquillità non va vissuta non fa fatta vivere in alcun modo una dimensione di tortura psicologica o peggio di angoscia vanno accompagnati lo ripeto gli anziani e i disabili in questo percorso di difficoltà chiedendo agli 8100 comuni di farsi carico immediatamente facendo uno screening di chi ha bisogno fornendo dunque risposte immediate a chi ha bisogno lì non c'è tempo da perdere bisogna farlo oggi per oggi altrimenti le conseguenze possono essere estremamente problematiche bisogna comportarsi tutti rigorosamente ma bisogna anche dare delle spiegazioni chiare questo decreto questo decreto ci permette di andare al bar si può andare al bar e questa è la domanda cerchiamo di capirlo bene si può andare a prendere un caffè perché se ci devo andare con l'autocertificazione voi capite è meglio che li chiudete i bar o i ristoranti che dire di tenere aperti fino alle 18 ci sono ancora nel decreto molte aree che non si comprendono la norma come al solito perché adesso vengono scritte norme un po' a casaccio non ha chiarito c'è chi dice valgono questi elementi dell'autocertificazione solo se si sposta da un comune all'altro in realtà no in realtà si sta cercando di capire se questo elemento dello spostarsi anche all'interno degli stessi comuni d'altronde Roma è un comune immenso che all'estensione di una nazione Lussemburgo è più piccola di Roma per capirci con 3 milioni di abitanti è evidente che lo spostamento a Roma deve essere giustificato dalle ragioni del decreto ma questo chiede cosa bisogna fare se uno vuole andare a prendersi un caffè sotto casa bisogna portarsi l'autogiustificazione e dell'autogiustificazione che ci scrivo c'havo voglia di un caffè allora è meglio che tutti questi elementi lo ripeto è il nostro appello al governo siano chiariti da un regolamento che specifichi il senso del decreto Barbara Moi giustamente scrive i ristoranti come ti chiedevo ieri sera che si fa si può andare a ristorante ma fino alle 18 si possono prendere cibi da asporto con i vari glovo ma allora sono aperti i vari ristoranti che fanno cibo da asporto e quegli stessi ristoranti devono possono accogliere clienti allora no non si può andare a ristorante dopo le 18 ma è probabile che quegli stessi ristoranti possano lavorare per produrre cibo da asporto che viene poi condotto tramite le varie app ancora una volta tornano le app alle abitazioni dunque dunque visto che Barbara per esempio non ha la cucina e dunque bisogna cercare di dare delle risposte quello che bisogna fare va regolamentato in maniera specifica questo è il nostro appello al governo va regolamentato in maniera specifica perché il decreto non ha ancora prodotto quegli elementi di importanza e interesse pubblico nel dettaglio c'è il quadro generale abbiamo capito più o meno il quadro generale ma gli elementi di dettaglio vanno chiariti con un regolamento secondo questione dopo il regolamento fatto per chiarire gli elementi e particolari dei spostamenti all'interno dei comuni ad esempio i comuni maggiori i comuni metropolitani dopo aver fatto questo gli 8100 comuni devono fare uno screening dei disabili gravi e degli anziani in condizioni di non autosufficienza senza supporto familiare e anche dove ci sia il supporto familiare poiché non si può far gravare tutto questo peso i disabili in Italia sono 3,8 milioni gli anziani come sapete sono 17 milioni non si può far gravare tutto il peso sulle famiglie bisognerà offrire una forma di supporto così come la si offre sul piano del babysitting visto che ci sono anche 10 milioni di bambini che in questo momento devono essere curati da genitori che vanno a lavorare dunque se non diamo gli elementi di dettaglio e Marisa avveduto da ragione a questa analisi come sempre la logica il logos la preghiera la lettura del Vangelo come dicono qua attenti a quello che dicono fate quello che dicono non fate quello che fanno questa pagina ti dà una di Vangelo è il Vangelo di oggi ti dà immediatamente uno squarcio di luce su come rapportarti con il potere con il potere fai sempre attenzione dice la pagina di Vangelo guarda bene e analizza tu stesso magari fai quello che dicono ma non quello che fanno perché le cose è meglio che vengano in qualche modo sempre filtrate dalla logica dunque lo ripeto prima necessità un regolamento un regolamento che faccia seguito al decreto e lo dettagli seconda necessità il supporto alla famiglia non si può schiaffare tutto il peso di questa crisi sulla famiglia che deve gestire 10 milioni di bambini che deve gestire 3,8 milioni di disabili che deve gestire tutti gli anziani non autosufficienti non può essere tutto fatto gravare sull'unica cellula sociale che ancora regge che viene devastata poi dovremmo aprire tutto un altro discorso che viene regolarmente ignorata devastata mai supportata persino in risa qual è quella appunto della dimensione familiare invece massimo supporto della dimensione familiare poi vi do un altro piccolo suggerimento ci chiamano medievali ci chiamano retrograti vi sarete accorti che l'unica risposta reale che questo governo è stato in grado di dare alla crisi del coronavirus ventunesimo secolo è analoga a quella che veniva data alla crisi della pestilenza del quattordicesimo secolo isolamento e quarantena è l'unica risposta la stessa dei retrograti medievali non c'è altra risposta isolamento quarantena quindi passano 700 anni ma diciamo la saggezza medievale è ancora quella che ci guida e come dice Rachele Sagramoso altra nostra militante e dirigente in prima linea come operatore sanitario la famiglia adesso fa comodo a tutti e voglio ringraziare tutti i tanti operatori sanitari del popolo della famiglia che stanno in campo penso a Luca Grossi lo ripeto al grande medico Luca Grossi che si candidò sindaco per il popolo della famiglia a crema pese più del 3% da solo al primo colpo e oggi sta lavorando in prima linea dove non ci sono più posti in terapia intensiva al letto al letto di Giovanni Mazzotta anche lui un medico vedo vedo Rachele Sagramoso ne vedo davvero tantissimi ringrazio Roberto Mura che immagino sarà passato davvero tanti fanno questo tipo di lavoro faticosissimo in prima linea e sono i nostri pompieri dell'11 settembre per capirci insomma sono i nostri eroi questi medici paramedici infermieri avete visto la foto dell'infermiera schiantata di fatica che sta circolando sui giornali di oggi e dunque capite quanto è importante questo tipo di ruolo e noi ringraziamo davvero con le mani giunte le mani sul cuore il lavoro che stanno compiendo queste persone enorme lavoro che sta salvando la vita a tanta 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 gente Angelo De Santis che fa parte di una famiglia numerosa dice sì adesso solamente quarantena ma ti chiedono di farlo in famiglia si sono accorti che esistiamo adesso ora ci si accorge di quanto è fondamentale la famiglia forse troppo tardi ce ne accorge troppo tardi Clara viene a salutare dai che hai fatto preoccupare tutti con il tuo pianterello quando si fa una proiezione pubblica della propria immagine amore non bisogna mai essere permalosi ricordati bisogna sempre sorridere anche a quelli che magari dicono una frase che non ti piace sempre sorridere perché è inevitabile che quando ti rapporti a molte persone pensa la puntata di ieri è stata vista da 4.000 persone quella di oggi ancora di più probabilmente da 5.000 sei 10.000 persone e allora seppure qualcuno ti dice una frase che non ti fa piacere non devi mai essere permalosa devi sorridere davvero sorridere e dire andiamo avanti con la trasmissione perché questo fanno quelli che si espongono davanti alle telecamere altrimenti meglio non andarci perché ti diranno sempre le peggio cose contro papà tuo dicono cose terrificanti però vedi come ti dicono sei troppo bella per cui stai tranquilla fai un sorriso a loro che se no ci rimangono male vedi sorridi che sei bellissima e ripeto giochiamo tanto ecco anche Alessandro Margiotta Alessandro Margiotta è un medico tutti quelli che sono medici in questo momento stanno facendo un lavoro enorme per la nostra comunità ci stanno dando un grandissimo aiuto e noi li ringraziamo vero Clara? grazie a tutti voi che state lavorando negli ospedali che lavorate nei luoghi di difficoltà che lavorate dove si fa fatica in questo momento siete voi quelli che danno forza a un'intera nazione vi ringrazio davvero siete molto molto cari è un momento di difficoltà per tutti si fa tanta fatica la gente muore ripeto pensiamo a quelli che sono soli quelli che sono da soli in casa in questo momento che hanno bisogno di aiuto e diamo loro tutto l'aiuto che possiamo anche noi facendo questa nostra diretta noi diamo aiuto perché siamo qui e diamo una mano a chi non ce la fa sono tanti 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 quelli che non ce la fanno sai noi ce la dobbiamo fare anche per loro vero? bella di papà non piange ma papà non piange mai papà è solo preoccupato perché tanti ci scrivono oggi sul nostro giornale ripeto che è il Curitano alla Croce abbiamo raccontato la storia di una signora che si chiama Cristiana che è una nostra amica completamente da sola perché è disabile e noi vogliamo dare una mano davvero? facciamo questo noi aiutiamo quello che possiamo fare è aiutare ok? aiutare è importante aiutare è importante perché tanti 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 in questo momento sono soli noi abbiamo la fortuna di essere famiglia anche se siamo da soli siamo tanti facciamo casino c'è Yoyo che strilla vero? Yoyo che fa casino se ti fa i cuccetti se li vuole fare pure lei ed è un caos però nel nostro caos che c'è dentro casa ci diamo da fare cresciamo ci aiutiamo l'un l'altro lavoriamo vedi Patrizia Selvaggi è una che ha lavorato a Grandate per far sì che tutti i disabili di Grandate potessero avere un numero di telefono da chiamare se stanno da soli questo è quello che vogliamo fare Patrizia è una del popolo della famiglia e fa questo lavoro supportando gli amici che sono soli i disabili soli gli anziani da soli donna Dalino Bonazza vedi che scrive in alto i cuori è un sacerdote che sta facendo anche lui in terreno dove da tempo c'è la la zona rossa la zona più difficile porta la parola di Cristo fa il sacerdote entra nelle case dove si soffre e questo è il lavoro di tantissime persone che sono qui presenti che fanno quello che possono cioè lavorare come possono dando un qualche supporto dando una risposta Gabriele Marconi vive a Bergamo a Bergamo c'è una condizione difficilissima anche dentro casa una condizione di disabilità noi dobbiamo fare quello che possiamo per dare forza dobbiamo assolutamente fare ciò che serve per dare forza forza a chi in questo momento è nella massima difficoltà le famiglie sono tante che sono in difficoltà perché non riescono ad andare a lavorare perché si fa fatica anche da trovare i soldi per andare avanti noi siamo molto fortunati abbiamo una casa bella grande dove possiamo stare tutti insieme accoglierci lavorare per per superare questo momento di difficoltà dobbiamo farlo tutti insieme aiutandoci da fratelli come dice il Vangelo di oggi che dice il Vangelo di oggi vero amore voi siete tutti fratelli c'è scritto proprio nel Vangelo di oggi uno solo è il vostro maestro voi siete tutti fratelli come dico sempre in stampa in Vangelo la lettura quotidiana del Vangelo ti aiuta a capire quello che devi fare nella giornata e lì c'è proprio scritto rapportatevi al potere con attenzione fate quello che dicono non fate quello che fanno e poi guardate la vostra condizione e leggi lì nel Vangelo di Matteo di oggi vero che c'è scritto Clara che c'è scritto perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli e noi siamo tutti fratelli e dunque ci dobbiamo aiutare l'un l'altro come si aiuta una famiglia sapendo che i bisogni di uno sono i bisogni di tutti non l'hashtag lo ripeto io resto a casa ma noi ne usciremo noi ne usciremo questo è il nostro hashtag noi ne usciremo e il secondo se volete è nessuno resta solo nessuno resti solo noi ne usciremo questo è il lavoro che dobbiamo compiere perché è necessario che davvero ognuno di noi faccia questa battaglia in maniera consapevole rigorosa con la consapevolezza che c'è gente che sta male questa consapevolezza serve qua ai politici perché chi è consapevole della sofferenza anche di uno solo agirà per lenire quella sofferenza se invece ci si rinchiude nelle torri d'avorio dell'ideologia o del potere appunto fatto di filatteri di filatteri allargati che dice il Vangelo di oggi tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente allargano allargano i loro filatteri e allungano le frange si compiacciano dei posti d'onore nei banchetti dei primi seggi nelle sinagoge dei saluti nelle piazze come anche di essere chiamati rabbì dalla gente capisci questo è l'elemento del potere che è terrificante vogliono quella roba là vogliono i primi banchi nei seggi vogliono questo tipo ma cosa sono i seggi? dove ci si siete anche in Parlamento quello che si chiama in Parlamento è il seggio il seggio allora vogliono quello invece noi non dobbiamo solo costruire in loro la consapevolezza che per esempio oggi ha costruito in noi Cristiana Di Stefano scrivendo l'editoriale che ha scritto per il quotidiano la croce perché ci sono persone che sono sole e questo è il momento in cui nessuno resti solo come l'hashtag che appunto Cristiana Di Stefano ha appena scritto saluto Sara Reo saluto Laura Melis è arrivato anche Silvio Rossi un altro medico anche Silvio è un medico sarebbe un meraviglioso ministro della sanità altro che Roberto Speranza signori io vi ringrazio molto per questa puntata un po' particolare di Stampe e Vangelo noi continueremo a cercare di farvi compagnia al mattino leggendo la parola e riflettendo insieme su ciò che la parola ci indica come cammino lo faremo tutti i giorni anche per darvi un po' di compagnia perché poi bene o male sentirci tutti insieme domani sarà il compleanno del popolo e della famiglia 11 marzo 2016 11 marzo 2020 sarebbe meraviglioso no? festeggiare una grande adunata di compleanno fessato il congresso nazionale al 28 e 29 marzo non si potrà tenere e allora lo faremo in qualche modo il festeggiamento tutti insieme qui collegati con stampa e vangelo poi l'altra funzione per cui facciamo stampa e vangelo è dare informazione sull'informazione cioè cosa sta dicendo l'informazione in questo momento ecco rispetto all'informazione che dice io resto a casa questo hashtag io resto a casa noi abbiamo voluto dire un hashtag diverso nessuno resti solo per supportare i disabili gravi e gli anziani senza supporto familiare ma anche ne usciamo insieme e noi ne usciamo insieme da questa vicenda così grave e così pesante insieme riusciremo come scrive in questo momento Andrea Brenna tra le altre cose da fare grazie a stampa e vangelo c'è anche qualche via d'uscita al governo che sembra essere in difficoltà su alcuni passaggi l'abbiamo indicata con il popolo della famiglia dal 21 di febbraio l'hanno applicata il 10 marzo se l'avessero applicata il 21 febbraio ci saremmo evitati tanti guai ma comunque continuare a dare con il logos che ci illumina qualche soluzione logica per uscire da questa tragedia credo che possa in qualche modo essere utile grazie a tutti voi in particolare a Cristiana Di Stefano leggete il suo editoriale sul Codiano La Croce se potete abbonatevi al Codiano La Croce www.lacrocepodidiano.it slash abbonarsi trattino ora da questo hashtag si può anche da questo link si può anche fare la tessera per il popolo e la famiglia cercate di informarvi nei luoghi dove è giusto informarsi noi siamo quelli che forse informano meglio su ciò che c'è da fare diamoci coraggio a null'altro Margherita Ruffina dice sì facci coraggio io vi dico diamoci coraggio o null'altro ancora una volta insieme perché stando insieme noi ce la caveremo ce la faremo sicuramente tutti insieme ora noi torniamo a giocare a truccarci alle segretarie a farci i capelli nelle varie maniere possibili a usare i trucchi i pastrucchi nelle maniere in cui si può per fare un gioco che ci permetta di far passare il tempo a coltivare i nostri prezzemoli piselli e fiori perché bisogna mangiare e bisogna anche avere la bellezza no quindi sentiremo nel frattempo la nostra io io continuare a fare casino dalla mattina alla sera e cercheremo tutti insieme in questa bella serrata familiare di volerci bene e nervosirci il meno possibile poi ogni giorno ci daremo appuntamento insieme per salutarci e dirci come va ci diciamo come va anche domani dalle 9.15 in diretta qui da casa di Nolfi dove c'è sempre guardatelo in fondo un angelo custode a proteggerci a custodirci e sia custode del bene di tutti voi sia custode di tutto ciò che vi è chiaro in questo momento così difficile per l'Italia e per ciascuno ne usciremo insieme nessuno resti solo rispettiamo ovviamente gli ordini dell'autorità ragioniamo sempre sull'autorità su quello che ha bisogno magari anche in termini di consigli che possiamo dare ringrazio ti saluta ringrazio che saluta Silvia che vi risaluta ringrazio che saluta la piccola Ioanna che era molto gelosa dell'acconciatura della sorella e andiamo avanti ragazzi diamo battaglia alla solitudine in cui siamo costretti con l'intelligenza a cui siamo stati chiamati l'intelligenza ci dice anche che dire una preghiera in più ricordatevi leggere una pagina di Vangelo in più riflettere a seguito magari di una preghiera di una lettura ha una sola certezza che non può essere sradicata male non fa e se male non fa inubiamente costruisce un pizzico di bene da Maria di Nolfi e da Clara una buona giornata a tutti voi ci vediamo domani con stampa e Vangelo grazie